ciao buona serata buon venerdì sera e faccio questo video perché è finito stasera di fatto poi c'è ancora domani però non ci sarà più parte didattica la quinta edizione dei camp di quest'estate era un memo junior quindi la fascia più alta dai 14 ai 17 e riflettevo su questa cosa ed è importante sottolinearla e non è mai abbastanza è un concetto al quale tengo molto e lo dico sovente però a mio avviso non è mai abbastanza adesso sono qua mi sto prendendo un attimo di relax e stavo pensando a quello che può far fare la differenza per questi ragazzi e una delle cose che più può aiutare uno studente è il settaggio mentale quello che uno studente una persona pensa quando si trova a dover affrontare determinate cose e se uno mi chiedesse matteo non ho tempo di imparare tutte le tecniche che cosa mi suggerisci se potessi dirmi una parola per aiutarmi che cosa mi diresti e io la frase che gli direi è smetti di studiare per imparare e studia per spiegare perché tengo così tanto a questo concetto perché quando studiamo per spiegare qualcosa a qualcuno la nostra mente si pone su un piano completamente diverso quando uno studia per imparare qualcosa immaginiamo noi stessi di fronte a un insegnante o un esaminatore che sa tutto su quell'argomento e deve valutare quanto noi abbiamo imparato se invece immaginiamo di dover spiegare a qualcuno quello che succede è completamente diverso perché ci chiediamo qui qual è il concetto chiave come posso trasferire questo concetto a qualcuno che non sappia nulla dell'argomento e in questo modo andiamo davvero a comprendere ad interiorizzare i concetti molte volte tante persone pensano a tecniche di memoria non serve niente perché è importante capire è fondamentale comprendere non andiamo mai a memorizzare nulla se prima non lo abbiamo interiorizzato la memorizzazione è una delle ultime fasi dell'apprendimento e ciao Danilo ciao ciao Sabrina ciao a tutti ciao e la memorizzazione è una delle ultime fasi dello studio dell'apprendimento è fondamentale interiorizzare comprendere bene i primi concetti però ci sono alcune cose che è fondamentale memorizzarle così come come sono faccio un esempio ad esempio potrebbe essere la formula per ricavare il volume della sfera non è immediata per uno studente allo stesso modo ci sono alcune formule ingegneria che sono ricavate sperimentalmente e uno può sapere intuire quali sono gli elementi che entrano in gioco nella formula ma dopo non non è in grado di ricavare la formula esatta specialmente quando ci sono dei parametri o dei valori specifici da inserire delle costanti quindi è fondamentale avere una buona capacità di memorizzazione perché è la fase che toglie più tempo allo studio molti non capiscono alla prima magari capiscono alla seconda se non alla seconda la terza ma alla fine bene o male tutti arrivano a comprendere il concetto la tecnica di memoria ci serve per andarlo a trattenere e a tramandare nella nostra memoria a lungo termine non ha senso imparare qualcosa velocemente per dopo dimenticarlo velocemente quando uno studia una lingua straniera la studia per memorizzarla sul lungo termine per poter parlare in quella lingua poi il concetto quindi che ci tengo a trasferire quello di studiare per spiegare ad altri ed è fondamentale simulare la situazione simulare viverla perché molti studenti pensano di aver capito la cosa e dopo quando si trovano a doverla spiegare all'insegnante si rendono conto che la loro era solo una sensazione non era una certezza reale di aver compreso uno comprende che gli manca la parola giusta oppure vorrebbe dire la cosa in un modo e gli manca quella parolina e si blocca delle esitazioni e poi veniamo valutati sulla comunicazione e quindi in quell'esitazione ci penalizza moltissimo questo per dire che per essere efficienti è fondamentale innanzitutto iniziare a studiare per spiegare ad altri immagina sempre di dover spiegare le cose a qualcuno e questa persona deve prendere il voto più alto possibile senza poter aprire i libri se la persona alla quale gli hai spiegato i contenuti riesce a prendere il voto più alto possibile tu come la devi sapere come l'hai interiorizzata vuol dire che l'hai completamente rielaborata sei riuscito a trasferirgliela e quindi quella cosa fa parte di te un detto dice dimmi qualcosa e lo dimenticherò fammi vedere lo ricorderò ma fammi fare e sarà parte di me per sempre quindi il concetto è voglio imparare la seconda guerra mondiale immagino di essere io l'insegnante che la spiega ai propri compagni questo ci farà cambiare completamente punto di vista io vi saluto saluto tutti ciao elisa ciao davide ciao davvero a tutti adesso sono qua non ho visto bene tutti quanti però mando un forte abbraccio un caro saluto a tutti quanti dal dal memo camp elisa ci vediamo presto e alla prossima ciao allora adesso chiudo qua allora Grazie.